Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. La situazione sta peggiorando, non c'è elettricità dalle 2 del pomeriggio, le condizioni umanitarie sono drammatiche. La de-escalation è possibile e con chi bisogna negoziare? Credo che la de-escalation sia un dovere. Mi spiace, non sono assolutamente d'accordo con il dottor Mieli che stimo tantissimo, però io non sono qui per fare un confronto tra la barbarie di Hamas e i crimini contro l'umanità che sono stati commessi dallo Stato di Israele a Gaza come le Nazioni Unite dicono. Quindi noi siamo esterrefatti per quello che Hamas ha fatto alla gioventù ebraica, ai neonati, non so se sono stati decapitati o meno, ma non siamo qui per fare un paragone tra e meglio uccidere un bambino di stenti, senza medicine, credo che sia un'agonia ancora più terribile, con una pallottola nella testa oppure decapitarlo. Questo è un discorso, mi scusi dottor Mieli, sottoculturale che non mi aspetterei da lei, che stimo tantissimo, di cui conosco l'erudizione, di cui seguo gli spettacoli in televisione, quando analizza eventi passati non utilizza questi che per me sono metodi propagandistici. Mieli comunque non fa spettacoli in televisione. No, no, ho visto delle sue ricostruzioni storiche invitando storici, per esempio su quello che è accaduto a Cuba. Fa trasmissioni storiche. Sì, è uno storico, per me è uno storico, non è vero.